Far conoscere la qualità dei mieli delle Marche, certificati e sicuri, prodotti da picoltori marchigiani, è questo l'obiettivo dei quattro consorzi apistici delle Marche, che con un lavoro sinergico si uniscono sotto il nuovo marchio Marche di Miele. Il consorzio della provincia di Pesaro Urbino, con la guida di Frederick Coliva, insieme alla provincia di Ancona, di Macerata e alle province di Fermo e Ascoli, hanno stretto un'alleanza per valorizzare l'unicità del miele marchigiano e difendere la biodiversità in un periodo controverso, nel quale la produzione è totalmente compromessa a causa del maltempo, in cui si discute in Commissione europea la direttiva miele. La battaglia più grande di questo vostro nuovo progetto? È sicuramente quello di ottenere il giusto riconoscimento per un'attività che sembra marginale ed ha un indotto abbastanza limitato, però svolge una funzione fondamentale per la comunità e per il settore agricolo, del quale, tenendo conto che noi ci alimentiamo con il 70% delle specie alimentari ad uso umano, si avvantaggiano dell'impollinazione degli insetti, in particolar modo delle api, quindi questo fa capire già che dipendiamo molto dalle api. Gli apicoltori marchigiani, insieme ai colleghi italiani, si battono affinché in etichetta venga inserita l'obbligo di indicare ciascun paese d'origine e la rispettiva quota percentuale nelle miscele di miele per difendere la leadership mondiale nella produzione a denominazione di origine con circa 850 prodotti contro i falsi agriolimentari. Un progetto per difendere sostenibilità ed eccellenza, che attraverso un brand unico si racconta un alimento locale a chilometro zero, frutto del rispetto dell'ambiente e prodotto al 100% da api italiane. Quello che noi dobbiamo fare, il nostro dovere è riuscire a fare una legge che sia corrispondente all'esigenza del settore, tra cui un ruolo diverso per gli apicoltori che non è solo produrre miele, ma è fare cultura, divulgazione, didattica, a diminuire l'impatto fiscale, le tasse a questo settore che non ha alcune agevolazioni che hanno altri settori e soprattutto riuscire a semplificare alcuni passaggi burocratici. Oggi le marche stimano 71.497 alveari e 3.386 apicoltori, classificandosi tra le prime regioni in Italia per l'apicoltura con la sua lunghissima storia di cultura, tradizione nel settore, creare una filiera istituzionale al dialogo continuativo e costante e l'impegno preso dal tavolo delle istituzioni presenti alla conferenza. Anni, recentemente abbiamo anche approvato la riforma della nuova legge, abbiamo distribuito dei fondi anche importanti a sostegno proprio degli apicoltori. Le api hanno un ruolo fondamentale anche nell'equilibrio dell'ecosistema, dell'ambiente, della natura e in più da parte nostra ovviamente c'è la volontà di sostenere comunque un settore che è sempre più ricco di produttori, di apicoltori che oltre alla passione innegabile stanno investendo anche risorse proprie, importanti a livello imprenditoriale.